salve a tutti i ragazzi bentornati su go games oggi andremo a vedere come poter aumentare il nostro pdc farmando noi adesso ci troviamo in questo luogo per andare a farmare questo nemico qui italia perché vi faccio vedere se voi andate su record registro vi si aprirà questa pagina adesso ne andiamo a registrare tutto quello che abbiamo preso se andate a vedere tutte queste immagini sono le pietre dell'anima che il gioco vi richiede che verranno droppate da determinati mob ogni volta che voi ne droppate tipo in questo caso 2 apparirà una stellina qui il secondo livello vi richiederà 25 pietre dell'anima il terzo livello quindi per avere la terza stellina ve ne richiederà 40 e così via quindi per ogni stellina vi richiederà sempre più pietre dell'anima di quel mob come fare questa cosa voi vi scegliete il mob da farmare io vi consiglio di farvi tutta la riga quindi se decidete di partire da qui vi fate prima questo poi questo poi quest'altro e ve li completate tutte io adesso sto facendo questo perché con frixi siamo partiti da qui perché siamo sceme però voglio dire partite dall'inizio che magari fate prima cliccate sulla pietra dell'anima che vi interessa poi fate vai ora in automatico verrete spostati nel luogo dove troverete quel mob da farmare io adesso ci sono quindi non posso fare il viaggio veloce volendo potete fare il viaggio veloce pagando gold oppure andate a fette come facciamo noi perché siamo pezzenti e anche tirchie perché serve fare questa cosa perché oltre ad aumentare il pdc voi andate anche a prendere dei drop cliccando di fianco a questa scritta quindi su questo simbolino qui si apre questo menu ricompensa per l'obiettivo quindi a step ogni 5 delle che voi andate a riempire vi verranno donati dei drop che sono anche molto interessanti qui abbiamo trovato il borsello d'oro e sono gold quindi male non fa qui abbiamo trovato un altro borsello d'oro poi con 15 stelle prenderemo 3 certificati soluzioni al volo prendendo 20 stelle ci saranno due sacche d'oro quindi 20.000 gold ma il premio più croccante è a 25 stelle quindi noi con 25 stelle andremo a prendere due coupon evocazione equipaggiamento in questa fila qui ovviamente ogni regione ha dei premi diversi tipo qui ottenendo 15 stelle vi danno un coupon evocazione mentre in quest'altro vi viene donato con ben 30 stelle un coupon di evocazione famiglio che non è affatto male e poi insomma andando avanti voi vi andate a vedere i vostri drop vedete quello che volete fare prima o quello che riuscite comunque a fare prima e li andate a farmare questa cosa vi consiglio di farla perché molto 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 importante perché non solo mentre farmate potete lasciarlo in automatico potete metterlo in modalità ia se volete potete stare anche lì ore e ore a cliccare sul pulsante insomma potete fare come vi pare ma è importante perché vi aumenta il pdc e vi dà dei drop veramente interessanti oltre a queste pietre dell'anima potete anche droppare questi altri oggetti qui come nel nostro caso noi farmando l'italia andrete anche a droppare questo qui il cristallo dorato di putri radice e anche qui ovviamente raggiungendo le 5 stelle ci sono altri drop e alla fine riempiendo le 20 stelle ci sono sempre dei coupon evocazione che siano di famiglio equipaggiamento abbigliamento insomma chi più ne ha più ne metta quindi fatelo controllate cercate di mettere in combo sia il mob che la pietra dell'anima che comunque qui la specialità e riuscite poi vi dico anche che per droppare più facilmente queste pietre dell'anima potrete andare a prendere una bevanda vi faccio vedere qual è questa qui fragranza acutizzante che vi aumenterà del 700 per cento il drop dell'anima specialità quindi tutte e due sia delle pietre dell'anima sia delle specialità quindi se le avete usatele se non le avete e le volete tra virgolette farmare dovete fare questo attività e dovete andare a fare le attività settimanali perché nel secondo step viene viene regalata una nel terzo step ve ne vengono regalate due quindi fate le attività settimanali molto molto importante già l'abbiamo detto nell'altro video però insomma ribadirlo non fa mai male per prendere quella bevanda lì per chi non lo sapesse basta cliccare sul più e ve le ritroverete qui quindi tutti i buff che voi potrete andare a prendere ce li avete cliccando su questo più qui poi cliccate sull'oggetto e ve lo prende in automatico questo dura 30 minuti volendo potete anche pensare di andare a prendere questo che ottiene il 700 per cento di esperienza oro doni in più quando sconfiggi nemici nei terreni normali nei terreni del caos quindi anche la bevanda energetica è molto molto importante anche questa se volete farmarla attività giornaliere nel terzo step ve ne da una trovando i punti panoramici e sempre trovandone tre in quel luogo se voi andate a cliccare qui potete droppare queste bevande energetiche oppure nel negozio con 50 diamanti potrete andare a comprarle stessa cosa per la fragranza cotizzante però insomma andare a comprare 50 gemme non sono poche però eventualmente se proprio non potete farne a meno potete acquistarle anche da qui se volete vedere dove recuperare qualsiasi oggetto cliccateci sopra al menu dell'equipaggiamento e poi cliccate su fonte qui vi si apre il menu che vi andrà a indicare dove poter reperire quell'oggetto volendo potete anche cliccare su mappa mappa del mondo noi in questo caso siamo a selva dorata vi faccio vedere da qui cliccate nella zona dove volete farmare cliccate qui sul segnalino dei mob qui vi darà l'elenco dei mob che potete trovare in quella regione e cliccando sul mob prima dovrete cliccare qui sopra perché normalmente non è evidenziato quindi se cliccate sul mob e non vi apre il menu a tendina cliccate qui poi cliccate sul mob e vi darà l'elenco di drop che quel mob vi dropperà quindi nel nostro caso petalia ci dropperà i medaglioni per alchemi quelli di legno i contratti le ricette per armatura e per arma ovviamente i cristalli per armatura e per arma quelli che li droppano praticamente tutti il latte il certificato soluzioni al volo strappato anche questo molto importante ogni 100 dal negozio ve ne danno uno intero da utilizzare quindi molto molto importante per andare a farmare più esperienza o per andare a scambiarli con i contratti conquista e i lucidi lucido per armatura il lucido per le armi ovviamente in base all'elemento del mob vi dropperà il lucido per arma di quell'elemento quindi in questo caso fuoco e la sua pietra dell'anima nel nostro caso visto che nel gruppo di petalia quindi allo stagno soleggiato noi troviamo questi tre mob qui loro saranno divisi in gruppi quindi ci saranno due tre petalia un papillion un putri radice insomma loro formano i loro gruppi voi potrete andare a droppare non solo quello che vi rilascia petalia ma ovviamente quello che vi rilasciano anche gli altri mob quindi in questo caso putri radice da cose un pochino più croccanti come il cristallo dorato di putri radice e queste due casse oltre al medaglione d'oro di alchemy che non è affatto male quindi se abbiamo fortuna potremmo anche andare a droppare queste cose qui per cui mi raccomando andate a controllare anche nella mappa in modo che magari se il nemico di cui volete farmare la pietra dell'anima è in un gruppo con altri nemici che hanno bei drop o che vi fanno comunque farmare le specialità mi raccomando andate a farmare quel gruppo lì quindi cercate di ottimizzare il più possibile detto questo vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto un video commentate unitevi alla nostra gilda in descrizione ci sono tutti i link dei nostri social quindi discord dove potete trovare tutti i video che noi andiamo a caricare tutti i giorni in modo da non perdervi nulla anche per quanto riguarda ninokuni ovviamente telegram dove magari vi rispondiamo più velocemente se avete bisogno di un qualsiasi consiglio fateci sapere come al solito se avete bisogno di video particolari di una spiegazione più approfondita di qualsiasi parte del gioco o meccanica che non capite grazie mille per averci seguito e ci vediamo alla prossima